Sicuramente i nostri più importanti spazi per la cultura saranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, a cominciare dal Maschiangioino, al PAN, al Palazzo delle Arti e al complesso monumentale di San Domenico Maggiore nel cuore del centro antico, dove tra l'altro sono in corso delle iniziative molto belle, di grandissima importanza e di grande rilievo. Vorrei ricordare che a Pasqua e a Pasquetta sarà possibile visitare al PAN la grande mostra su Dalì.